Il Consorzio di Bonifica opera su tutto il reticolo idraulico fiorentino, sono circa 1.100 chilometri, opera dal 2016 con il pagamento del tributo a tutti i possessori di immobili e terreni a Firenze e questo ha significato un enorme salto di qualità dal punto di vista qualitativo e quantitativo delle manutenzioni che adesso assommano a circa 6 milioni e mezzo di euro l'anno, questo si nota, si vede, naturalmente tutto questo per garantire una sempre maggiore messa in sicurezza dei fiumi che abbia come contraltare però anche la loro apertura al pubblico come è avvenuto negli ultimi anni, apertura al pubblico che viene fatta dopo un enorme lavoro di prevenzione fatta sul fiume per renderlo più sicuro, più gradevole, più bello e aprirlo ai cittadini. Tutto questo naturalmente comporta anche una serie di rischi che non ci possiamo nascondere specialmente in tempi di cambiamenti climatici, quindi percorrere un fiume nei suoi argini, sui suoi bordi prevede anche un'attenzione che bisogna mettere massima nelle allerta meteo per esempio, cosa che noi facciamo puntualmente seguendo le allerte meteo per quanto riguarda tutte le emergenze. Quindi ricordiamo ai cittadini che i fiumi sono ovviamente carne viva del territorio cittadino e che naturalmente sono soggetti ad eventi di piena e di conseguenza la buona educazione civica, la prima forma di educazione civica è avere grande rispetto sia quando sono in secca che quando sono in piena. Quindi avere contezza di quelli che sono gli allarmi che ci sono sul territorio, avere contezza della possibilità che ci sia una piena in arrivo e quindi comportarsi di conseguenza. Ma il maggior apporto alla campagna Io non rischio il Consorzio lo dà attraverso un quotidiano costante e continuo lavoro di prevenzione e manutenzione sul territorio. Prevenzione per non far rischiare interi territori di andare sott'acqua, di essere sottoposti a tragici eventi colluvionali come purtroppo invece sempre più spesso viviamo. Viviamo tempi in cui ci sono allarmi spesso inascoltati sui cambiamenti climatici ma questi cambiamenti climatici si manifestano con molta evidenza sui fiumi. Quando piove molto improvvisamente in poco tempo e questi fiumi da semplici piccoli duscelli diventano fiumi imponenti. Quindi sempre più sicurezza sui fiumi ma attenzione sempre più sicurezza anche da parte dei cittadini con la consapevolezza che un fiume può essere utilizzato ma che va temuto e che quindi bisogna rispettarlo allontanandosi nel momento in cui ci sono eventi di piena.